Dietro, ok, benissimo! Siamo pronti? Sì, sì! Preto? Appena taglio, entriamo così, eh! Pronti? Via! Eccoci! Siamo particolarmente contenti di poter vedere un bene pubblico tornare nelle disponibilità dei cittadini. Non è stato semplice, questo è vero, perché spesso la burocrazia rallenta processi che potrebbero sembrare anche scontati, ma che nei fatti non lo sono. Appena insediati ci siamo subito messi al lavoro e dopo aver risolto alcuni aspetti anche di natura legale abbiamo proceduto con la bonifica dell'aria, posizionato nuovi moduli giochi, panchine, realizzato camminamenti e la recinzione. Oggi inauguriamo il parco di via Melicucca insieme ai cittadini e ai locali comitati di quartiere consapevoli che ne faranno sicuramente buon uso. Tanto era forte il loro desiderio di poterlo godere di questo parco pubblico. Siamo felici, è una giornata di festa per tutti. Siamo felici, è un uomo per tagliare. Siamo felici... E' come fare 330-L Rapid Sound E come ferrata? Ciao! Un'altra cosa è andata di контрame. Nel smoothgression Trişwasser Radevỉny Rerevili Rerevile E' come fare 81%